buongiorno ragazzi oggi sono stra felice sono nati per fortuna i piccoli betta non so se riuscirete a riuscirete a vederli io me ne sono accorto per pura caso perché non trovavo più le uova io ho visto degli esseri microscopici che si muovono il papà guardate e intento a a metterli nel nido non so se riuscite a vedere anche ingrandendo vedete i piccoli occhi ora si vedono avete visto c'è ancora qualche uovo qualche serino con lo zoom vedete qualcosa si muove ed è visto visto piccoli betta crescono bene ragazzi sono stra felice con questo vi saluto avete visto il piccolo betta in questo vi saluto vedete e vi lascio al prossimo video buona giornata amici vi saluto vedete